Pedemontana ha sottoscritto oggi un documento contro la violenza sulle donne da Ulz 7 Pedemontana, Comitato dei Sindaci del Distretto 1, Prefettura di Vicenza, Associazione di Riferimento Attive nel Territorio, quale importante aggiornamento del precedente protocollo sottoscritto già nel 2015, rispetto al quale apporta delle novità migliorando le azioni previste e le collaborazioni fra le diverse parti coinvolte. Concretamente la rete prevede diversi punti di accesso, prima di tutto le forze dell'ordine, ma anche il pronto soccorso con disponibilità H24 di un telefono viola al quale risponde una psicologa specializzata e poi naturalmente la messa in sicurezza della donna vittima degli eventuali figli. Su questo un ruolo determinante hanno le strutture attive nel territorio con i vari centri.